Su ragazzi, muovetevi! Forza con gli istintori! Kerson, smetti! Prendete quella guarnizione che avete portato dall'altra parte dell'eratura! Andiamo, muovetevi! Signor Bile! Signor Bile! Ora cosa c'è? È uno dei nostri sorveglianti volontari. Sì, signora Woodley? Sono nella torre fuoco 9, signor Bile! E sta succedendo una cosa terribile! Parlo del vecchio Grizzly! C'è del fumo che esce dalla sua cima! Il fuoco non è ancora divampato, ma c'è vento che soffia da sud-est! Grazie, signora Woodley! Faremo qualcosa! Il vecchio Grizzly è la più vecchia creatura vivente del mondo! Se dovesse succedergli qualcosa, sarebbe proprio imperdonabile! Non guardare meno! Mi posso privare di un solo uomo! Me ne servirebbero molti altri! Non so se sarà possibile, Fred, ma io e Steve possiamo fare una corsa e dare un'occhiata! Bene, ci incontreremo là! Ciao! Steve! Dimmi, papà! Prepari il 269A, è scoppiato un incendio! Ho paura che se lanciamo il borato dall'elicottero, la scia di vento potrebbe aumentare le fiamme! Era un'idea avventata, Cap! Pensavo potesse funzionare! Purtroppo non è possibile, Fred! Mi dispiace perdere il vecchio Grizzly! I bambini della scuola fanno qui ogni anno il loro grande picnic! Bene, non ci rimane che abbatterlo! Abbatterlo? Vuoi dire che si dovrà buttarlo giù? Altre scelte, Steve, purtroppo non ce ne sono! Bisogna salvare l'intera foresta! Sai, potrebbe anche esserci un'altra strada! Decidi, Tuca! Ma se non riesci a far niente prima di sera, sarò costretto a chiamare la squadra e ad abbatterlo! Un pallone, hai detto? Sì, c'è un pallone ad aria calda nell'angolo sud-est dell'hangar! Ci sono Joe e Rete! Fatti aiutare a caricarlo sullo Sky Wagon e portalo qui rapidamente! Ma cosa credi di poter fare con un pallone, papà? Tenteremo di salvare il vecchio grizzoli! Posso venire anch'io, zio Cap? Potrebbe essere molto educativo, non credi? Va bene, Cindy, vieni e porto anche Rete con te, ma fate in fretta! Se non spegniamo il fuoco prima di sera, dovranno abbatterlo! Vieni, vieni e porto anche Rete con te, ma fate in fretta! Dov'è il pallone? Perfetto! Ora salviamo quel vecchio albero! Ragazzi, che albero! Lo guarderemo più tardi appena gonfiato il pallone! Incomincia a gonfiarsi! Steve, aiutaci con il tubo! Caroline, Red, Cindy, tenete il pallone! Abbassa la fiamma, è quasi pronto per volare! Come faccio ad abbassarla? Stai attenta, gira la valvola! Quale? Attenta, Cindy! Aiutami a salire, Caroline! Oh mio Dio, e ora cosa facciamo? Zio Cap, zio Cap, il pallone è volato! Il pallone ci è spulcito! Proverò a seguirli con la jeep! Steve, tu vai avanti per aiutarlo! Io e Red prenderemo l'elicottero, tenteremo di raggiungerli! Ragazzi, com'è bello! Non c'è nessun rumore! Stiamo volando come gli uccelli! Sì, è bello! Ma gli uccelli possono posarsi! Noi come faremo a scendere? Red aveva parlato di una valvola! È vero! Ma quale sarà? Ehi! Stiamo salendo invece di scendere! Ecco, il pallone è là! Proviamo di nuovo con quella valvola! Ma questa volta la giriamo al contrario! Hai visto? Ora scenderemo! È vero, ora stiamo scendendo! Però troppo in fretta! Guarda! Stanno precipitando! Vanno verso le rocce! Stanno arrivando papà e Red! Caroline, stiamo cadendo proprio su quelle rocce! Alzate la fiamma! Ehi, stiamo salendo! Le hanno quasi raggiunte! Prendi la fune e stai pronta ad agganciare! Proveremo a rimorchiare il pallone! Che stanno cercando di fare? Provano a rimorchiarci! Oh, peccato! Proprio ora che abbiamo imparato a manovrare questo vecchio pallone! Ecco, Cindy! Adesso proverò a prendere la fune! Fai attenzione, Caroline! Non riesco a prenderla! Prova di nuovo, Red! Oh, l'ho presa! L'hanno presa! L'hanno presa, Zuccap! Ce l'hanno fatta! Stanno trascinando il pallone! Siamo ancora in tempo per salvare il vecchio Grizzly? Se non hanno già iniziato ad abbatterlo, sì! Tu puoi fermarli? Possiamo provare! Andiamo! Bene, ragazzi! Iniziate a tagliare! Interrompete! Fermatevi! Siamo in grado di salvare l'albero! Ora caliamo il pallone nello spiazzo! Mettete quel tubo nella navicella! Ehi, sta arrivando Cap! Se non riuscite a spegnere quel fuoco, il vecchio Grizzly dovrà essere abbattuto! Stai a vedere! Per ora va tutto bene! Speriamo solo che laggiù abbiano borato a sufficienza! Ehi, funziona! Il fuoco si sta spegnendo! È quasi spento! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Gira il bruciatore, Steve! Riportiamo a terra il pallone! Eccoli che arrivano! Hai salvato il vecchio Grizzly, zio Cap! Lo dirò a tutti i bambini a scuola! Abbiamo contribuito tutti a salvare quel vecchio Alde! Sai papà, pensavo una cosa! A che cosa? Abbiamo usato il più vecchio tipo di macchina volante per salvare la più vecchia creatura vivente! Ce l'abbiamo a noodle! Grazie a tutti. Grazie a tutti.